Sì, questo tema della bellezza mi ha messo un po' in difficoltà perché avendo scritto un libro sulle eretiche beh, normalmente se uno pensa alle eretiche non pensa a delle belle donne, no? In genere pensa alle streghe che sono tutt'altro che belle infatti anche nella copertina del libro sì, sopra c'è una donna a sua dente ma la strega che sembra un po' la Befana che è proprio una persona non proprio bella e, sì, non per ricordarmi che cosa ho scritto è giusto allora io comunque, appunto, questa è l'occasione, il libro alla fine ne parlerò però mi ha un po' inquisosito questo tema della bellezza perché io ci ho dovuto riflettere, no? su come presentarvi questa parola così ambigua e proprio cominciamo dalla Bibbia già che io poi mi interesso di donne e mi interesso di come le donne sono state narrate sia nel testo sacro che nella tradizione cristiana ebbene, la bellezza perché, Dio, è un termine ambiguo e nel testo sacro c'è questa ambiguità intanto già la creazione, no? tutto è bello quando c'è la narrazione di questa creazione dal nulla di Dio dove viene sempre sottolineato la bontà e la bellezza di questa creazione quindi diciamo è un messaggio positivo che viene dato, no? siamo stati creati in un contesto di bellezza non di guerra, non di caos ma di bellezza e di bontà e la narrazione della creazione di Eva non c'è scritto che Eva era bella ma evidentemente doveva essere bella, no? se c'è quell'espressione di D'Adamo dice ah osso delle mie ossa, carne la mia carne se era brutto avrebbe detto mamma mia chi è questa qua? allora siccome non è detto mamma mia quanto è chi è, significa che doveva essere bella però Eva come viene presentata? viene presentata come colè che seduce come colè che quindi seduce Adamo facendolo cadere nel peccato, no? e questo tema della bellezza come seduzione che fa cadere l'uomo l'uomo che poi è fragile davanti alla seduzione femminile troveremo proprio un percorso che attraversa tutta la cristianità che penalizza molto le donne e il corpo delle donne e vedremo per chi ancora si parla di bellezza nel testo sacro a proposito delle mogli dei patriarchi, no? Sara, la moglie di Abramo si dice che è bella e Abramo è preoccupato di questa bellezza non so se vi ricordate questo passaggio quando va in Egitto e dice beh il faraone vedendo che Sara è bella se la vorrà prendere nel suo harem e se sa che io sono il marito mi ammazza e allora la presento come mia sorella quindi un po' vile questo Abramo e infatti Sara viene presa perché era molto bella nell'harem però dice il testo sacro interviene Dio era la Libra perché la salvezza deve passare attraverso Sara però Abramo non ci fa una bella figura no? perché la bellezza della donna la vede come un pericolo per lui e così pure Rebecca, no? Rachele sono presentate come belle Rachele se vi ricordate, no? c'è la sorella Lia che è brutta in questo caso è la bella e la brutta però la brutta è fertile è benedetta da Dio e da molti figli Rachele che invece è molto bella piange perché non riesce ad avere figli quindi c'è in qualche maniera già qui si intravede il dovesciamento del criterio di bellezza che cosa è bello? quello che appare o qualcosa di diverso? ecco allora diciamo ci sono, incominciano ad esserci gli elementi quindi le donne belle che sono anche un oggetto di desiderio degli uomini che sono però seducenti e ci sono due testi importantissimi nel testo sacro che sono dedicate a due donne Giuditta ed Esther e Giuditta ed Esther rappresentano proprio il significato della bellezza che però è un elemento effimero perché la bellezza è un elemento effimero esteriore però può essere usato dalle donne non in una chiave negativa come è stata attribuita ad Eva che seduce per far cadere l'uomo nel peccato ma nel caso di Esther e di Giuditta è una bellezza che viene usata per salvare il popolo dallo sterminio alcuni passaggi vi richiamo alla mente perché non è detto che poi tutti quanti voi vi ricordiate questi testi sacri Esther vi ricordate la storia di Esther? Esther è un libro sapienziale cioè non è un racconto storico fa parte dei libri sapienziali significa che ha una cornice storica ma il significato è un significato appunto di sapienza perché vuole comunicare un messaggio allora che viene rappresentato il grande potere il potere di Assuero e c'è un'esagerazione nel descrivere questo potere una smargiassata si direbbe questa festa che viene fatta per giorni interi dove si mangia si balla quindi c'è una grande proprio sottolineatura di un potere diciamo esagerato che Assuero rappresenta e alla fine di questa di questa grande festa chiama la moglie Vasti che è molto bella e vuole che sia presentata no? perché possa essere vista perché è un oggetto Vasti è sua moglie quindi vuole che tutti guardino la sua bellezza Vasti si rifiuta non si presenta non vuole essere un oggetto di desiderio un oggetto esposto allora c'è il panico a corte dice che una donna che si oppone al marito in questo caso al re e allora tutti quanti dicono Assuero assolutamente bisogna fare qualcosa altrimenti poi tutte le donne si ribellano al proprio marito e quindi viene mandata via Vasti Vasti viene proprio espulsa dalla corte proprio per dare un segno alle donne che non possono ribellarsi agli uomini però bisogna fare una specie di concorso di bellezza perché ora il re ha bisogno di una donna che deve essere bella a questa specie di concorso di bellezza dei tempi si viene presentata Esther che è un'ebrea che non si sa che ebrea è nascosta siccome gli ebrei erano in terra straniera nascondevano la loro identità e lo zio Mardokeo fa in modo che lei che è bella venga diciamo preparata e partecipi a questa selezione quindi anche lo zio usa il corpo di questa nipote perché faccia carriera e viene scelta Esther appunto dal re Assuero e diventa regina quindi ci troviamo proprio nella diciamo nella tipologia classica di una bellezza oggetto oggetto di desiderio e di possesso da parte degli uomini però che cosa succede facendo la breve perché la storia è molto lunga e intricata che Esther viene a sapere che il re vuole esterminare il popolo ebraico perché c'è un appunto un suo consigliere che lo lo spinge in questo senso e cosa quindi deve fare qualcosa perché non ci sia deve salvare il popolo e allora utilizza la sua bellezza perché il re l'ascolti perché il re capisca l'inganno e perché appunto intervenga affinché il popolo non venga sterminato infatti così accade quindi a differenza di vasti che si oppone al re per non farsi per diciamo una posizione diretta Esther usa una strategia di in qualche maniera come dire di una strategia affinché il re non si senta umiliato nelle sue della sua persona ma venga in qualche maniera condotto attraverso appunto anche la la debolezza che lui rappresenta perché il potere viene rappresentato in questo testo sacro come fragile davanti alla bellezza e la dolcezza di questa donna capisce il suo errore e salva il popolo dallo sterminio la stessa cosa ricordatevi Giuditta Giuditta è un racconto forse che conoscete meglio Giuditta che cosa fa uccide Oloferne che stava assediando la città ed era destinata alla distruzione della città e lei che è molto bella va appunto a sedurre e approfitta della sua bellezza e approfitta della fragilità dell'uomo davanti alla sua bellezza per poterlo uccidere ecco quindi una bellezza potente quella delle donne che può sedurre che però può anche salvare nella misura in cui viene utilizzata nel caso di questi testi sacri per la salvezza del popolo poi c'è un testo che è ancora più diciamo rappresentativo di questa di questa di questo concetto che è il Cantico dei Cantici voi sapete che il Cantico dei Cantici è un po' una risposta a Genesi perché anche qui in un giardino però in questo che è il Cantico dei Cantici non c'è un conflitto tra uomini e donne c'è invece l'amore reciproco no? tra ed è lui che si rispecchia in lei diversamente da Genesi e quindi l'esaltazione della bellezza fisica dell'erotismo del corpo femminile che è non più oggetto di desiderio di seduzione ma invece è l'oggetto dell'amore corrisposto e quindi è una grande esaltazione dell'amore reciproco tra l'uomo e la donna e del corpo maschile e femminile che non rappresentano più la diciamo la decadenza o il peccato il conflitto ma invece sono l'espressione di un amore donato un altro elemento l'altro elemento che noi troviamo diciamo nel Nuovo Testamento e che attraversa la cristianità e anche qui diciamo mi soffermo solo su una figura perché è una figura che è stata interpretata in maniera in maniera sbagliata generando molti equivoci Maddalena Maria Maddalena se io chiedo chi è la Maddalena voi mi rispondete eh? la prostituta perché vi ricordate anche i quadri no? vi ricordate i quadri prima del peccato seducente con gli abiti del lusso no? e poi dopo la conversione masciata con gli stracci con il teschio quindi per far capire come quella bellezza era appunto effimera ed era una bellezza legata alla lussuria perché era prostituta e invece poi dopo è la rappresentazione della penitenza e quindi pensate alla Maddalena di Botticelli vi ricordate tutta smunta con i capelli lunghi e tutta appunto emaciata ora c'è un problema esegetico che Maddalena non è una prostituta cioè nei Vangeli non si dice mai che Maddalena fosse una prostituta c'è stato un grande equivoco un equivoco dovuto a una cattiva interpretazione da parte di Alberto Magno che confonde le tre donne del Vangelo Maria Maddalena Maria di Betania e l'anonima prostituta siccome ci sono dei elementi diciamo simili lui pensa che queste tre figure siano un'unica donna la Maddalena e quindi comincia una tradizione di Maddalena prostituta che poi si penta nell'incontro con Gesù e poi viene viene redenta che ha tutto un percorso che si afferma nel cristianesimo quindi indirizzando la riflessione il pensiero la spiritualità verso una considerazione del corpo femminile che qui oggetto sensuale oggetto di defiderio che porta appunto alla perdizione che in qualche maniera da cancellare perché bisogna invece fare una vita di penitenza ora capite bene che Maddalena nei Vangeli è la discepola di Gesù e l'apostola di Gesù e l'apostola degli apostoli cioè la fede cristiana poggia sulla testimonianza di Maddalena che è la prima che annuncia che Gesù è risurto inviata da Gesù agli apostoli ora penso che ci sia una bella differenza nel dire che Maddalena è apostola o nel dire che Maddalena è prostituta evidentemente no per com'è che ha avuto tanto successo questa idea di Maddalena prostituta che nasconde il suo ruolo di discepolo e di apostola è convenuto è convenuto pensare che questa donna fosse l'emblema poi della conversione quindi tutte le narrazioni che sono nate che Marta di Betagna cercava di convincere quella sorella che ormai andava nei prostiboli a pentirsi la fa incontrare con Gesù lei non ci vuole andare poi ci va e si pente si strappe cioè c'è tutta poi una leggenda una narrazione che attraverso i secoli che fa parte della predicazione dell'iconografia delle prediche che ancora oggi ci sentiamo e quindi vedete come si distorce un'immagine una figura per evidenziare evidentemente anche un concetto di donna un concetto di corpo un concetto di sessualità anche di eroticità ora la bellezza quindi come che cos'è è esteriore non è esteriore a me ha colpito sempre molto un racconto degli atti dei martiri sapete che nei primi tempi i cristiani venivano martirizzati e abbiamo delle narrazioni di questi martiri e c'è una narrazione che è il martirio di Blandina Blandina a Lione quindi Francia è una vecchia schiava qui donna credo che non ci sia niente di peggio per il mondo classico donna schiava e anziana quindi completamente fuori dei canoni e della bellezza non è la fanciullina vergine no appunto che va incontro alla morte è libera ma invece una schiava anziana e che cosa dice la geografo che prende nota del martirio dice che vedendo lei sul sul palo perché viene messa su un palo tutti quanti vedevano in lei Gesù in croce ah allora l'immagine di Gesù non è legata alla figura maschile no sapete il clero deve essere perché devi chiamare e che cosa è legata cioè vedevano Gesù in una donna anziana schiava vecchia perché la testimonianza di fede che rimanda a Gesù che salva allora ecco invertire il concetto di bellezza la bellezza non è qualcosa di esteriore la bellezza è data dalla coerenza della mio essere seguace di Cristo il mio essere seguace di Cristo il mio essere testimone della salvezza che viene è data appunto è il segno è il segno di una bellezza di una bontà di una bellezza che è entrata nel mondo è quella che bisogna bisogna guardare non l'aspetto esteriore allora ecco che c'è in qualche maniera un copavolgimento del concetto di bello che deve essere visto nella interiorità delle persone e nella testimonianza che danno perché attraverso quella che noi cogliamo Gesù beh un po' in fondo è quello che fa Francesco d'Assisi cosa fa Francesco d'Assisi se non abbracciare il lebroso abbracciare il povero ma il povero quello che noi ci scansiamo il sporco il disadattato oppure quello che farà Teresa madre Teresa di Calcutta quando parla che lei va incontro a quello che sta morendo cioè al più derelitto e derelitti cioè qualcosa anche di ripugnante cioè tutta la descrizione di santi di queste persone che vogliono essere discepoli di Gesù che abbracciano quello che a noi sembra brutto orrendo disdiscevole opprobrioso perché è attraverso invece quell'abbraccio che loro vedono il vero volto di Cristo perché anche qui che cosa è la bruttezza o la bellezza no? e vedete come si capovolgono i criteri il criterio dell'esteriorità o il criterio invece di una bellezza che è data dall'amore condiviso quello diventa il criterio per giudicare bella un'azione bella un comportamento bella una persona che nella capacità che ha di amare e di condividere rimanda all'amore più grande che è l'amore di Dio che il bello è il buono per eccellenza no? allora ecco vedete come ci sono poi i capovolgimenti della storia venendo a due donne di cui io parlo in questo libro perché io poi parlo delle eretiche no? allora è chiaro che qui le eretiche di cui io parlo sono donne che sono state considerate minacciose pericolose da parte dell'istituzione e per questo sono state messe a tacere o con la morte o con l'incarcerazione o con l'oblio no? ci sono tanti modi per cancellare la memoria sono tante le strategie e voi sapete anche che nessuno dice io sono eretico io sono eretica è l'istituzione che no? dice che pensa di possedere la verità e l'ortodossia che definisce chi non non segue la propria criterio di verità di otossia come eretico ma ogni eretico pensa invece di essere un discepolo di quel Gesù al quale si appella ritiene di fare una scelta di interpretare il testo sacro in un certo modo di proporlo alla chiesa e invece l'istituzione non non riconosce quella proposta e la giudica pericolosa quindi si crea un conflitto tra il potere e la persona o i gruppi che ritengono invece di proporre un'altra possibilità interpretativa il termine eresia infatti originariamente non ha un'accezione negativa significa scelta è una scelta e al tempo di Gesù per esempio Gesù non viene mai giudicato considerato eretico ci sono tanti gruppi che fanno delle scelte e che propongono delle interpretazioni queste scelte appunto poi vengono considerate negative nel momento in cui il cristianessimo si allontana dalla matrice ebraica diventa religione diventa religione dell'impero sposando i criteri dell'impero e quindi si dà un assetto di verità e di norme per cui interviene in maniera anche violenta nei confronti di chi non rientra in questi canoni e le donne insieme con gli uomini che non condividono tutte queste scelte o propongono alcune cose diciamo pagano poi questa loro libertà appunto in una maniera che viene diciamo che in qualche maniera io racconto perché c'è un filo che le unisce tutte queste donne in quanto pongono delle domande il problema e le risposte che dicevano allora io faccio due esempi che in qualche maniera si collegano a questo discorso della bellezza di cui stavamo parlando perché è chiaro che ognuno cerca una strada di bellezza perché è la strada della verità è la strada della liberazione è la strada della salvezza coincidono questi termini allora mi soffermo su due figure di cui io parlo una è Margherita Porete oggi viene molto studiata Margherita Porete e ci troviamo nel 1300 in Francia e fa parte delle Beghine chi sono le Beghine? sono queste donne che decidono di non entrare in monastero voi sapete che nell'antichità nell'età moderna ma anche nel medioevo le donne o si dovevano sposare o entravano in monastero una via di mezzo non era consentita ebbene queste donne decidono di non sposarsi e di non entrare in monastero vivono intanto del loro lavoro infatti se voi andate a Bruges per esempio che è un vecchio Beghinage trovate i merletti perché queste donne sono famose per i merletti allora lavorano quindi si guadagnano da vivere fanno opere di assistenza in genere vanno negli ospedali quindi hanno una dimensione di cura nei confronti degli altri verso i poveri vivono in povertà siamo 1200 1200 1300 cioè nel momento in cui la Chiesa è nel massimo del suo potere la riforma jegoriana è il potere della Chiesa che si contrappone al potere dell'impero queste donne scelgono la povertà di vivere del loro lavoro di leggere il Vangelo tra di loro ci sono anche delle magistre che predicano capite che infatti vengono insomma ci sono molti interventi per cercare di contenere vengono chiamate le teologhesse e poi scrivono scrivono nella lingua madre non scrivono in latino che è la lingua paterna ma la lingua materna scrivono nel francese antico scrivono nell'olandese antico e comincia la lettura la scrittura femminile con anche delle immagini nuove perché la lingua esprime anche ha dei contenuti nuovi importanti in modo diverso di narrare Dio anche vengono anche loro perseguitate e per fortuna noi troviamo diversi scritti abbiamo delle poesie molto belle proposte di bellezza di Adevish che parla di questo Dio signore amore perché nell'olandese antico nel francese antico amore al femminile e quindi quando Dio è amore loro diciamo la scrivono nei termini femminili la signora amore perché amore è femminile quindi anche il linguaggio su Dio che cambia e allora Margherita Poredia che fa parte di questo movimento che diciamo 200 anni attraversa l'Europa delle Beghine scrive un libro Lo specchio delle anime semplici viene messa al ruogo lei è il libro il libro poi si salva nel senso che alcuni codici girano anonimi per l'Europa agli inizi del novecento viene poi trovata da una studiosa Romala Guarnieri che la scopre la pubblica e beh che diceva di così tremendo questo libro che cos'è questo? è un percorso di amore verso Dio una ricerca di un contatto diretto con Dio attraverso una ricerca di bellezza di unione con Dio che solo quell'unione può essere il momento di ritrovarsi dello specchiarsi in una condizione alta lei cosa dice esattamente? dice che ci sono due chiese c'è la chiesa piccola che è la chiesa che noi conosciamo dei sacramenti dei ministeri delle regole dice va bene e lei accetta che ci sia questa chiesa ma ce n'è un'altra la grande chiesa che è la chiesa delle anime semplici cioè di coloro che vogliono avere un rapporto diretto con questo Dio perché vogliono avere un rapporto diretto con Dio? perché è un rapporto d'amore è un rapporto che consente di specchiarsi in Dio di unirsi in Dio e di trovare in questo incontro con Dio una unità e una possibilità di vivere in pienezza appunto la bontà e la bellezza di Dio e perché viene messa a ruogo una cosa del genere? perché si mette in discussione che cosa? la mediazione della chiesa cioè significa allora non è più necessario il ministero il clero che no? ha il potere di legare sciogliere no? e in qualche maniera mettere in discussione l'istituzione per questo lei è giudicata pericolosa le chiedo di rinnegare quello che scrive lei dice no io non devo rinnegare poi si poteva salvare se rinnegava non vuole rinnegare viene messa a ruogo e allora ecco perché quando io dicevo che l'eretica è in qualche maniera una proposta anche di lettura del Vangelo qual è il richiamo evangelico che di Margherita Porete è di questo movimento che si chiama movimento del libero spirito lo dì che dice la parola libero spirito e Giovanni il dialogo tra Gesù e la Samaritana vi ricordate in questo dialogo tra Gesù e la Samaritana che succede? Gesù incontra questa donna le parla al pozzo non era consentito a un uomo parlare a una donna per la strada a un rabbi lui parla oltretutto questa donna è una Samaritana quindi considerata una scismatica dagli ebrei e questa donna che è Samaritana c'è un tempio il tempio sul Garizim perché i samaritani erano separati se non si erano separati dai giudei avevano costruito un altro tempio quindi c'è il tempio sul Garizim e il tempio di Gerusalemme e beh dice questa donna ma signore ma dove dobbiamo adorare Dio sul Garizim o a Gerusalemme e qual è la risposta di Gesù nel Vangelo di Giovanni dice né a Garizim né a Gerusalemme ma in spirito è verità cioè non è più il tempio il luogo di incontro ma è Dio che viene incontro agli uomini è Dio che viene incontro alle persone per avere un rapporto d'amore diretto è questo elemento questa pagina che crea tutto un movimento questo movimento di libido spirito di persone che allora dicono c'è una strada una strada d'amore che mi conduce a Dio ed è quella che noi dobbiamo percorrere tutta la mistica in fondo è questo cos'è la mistica pensate anche a Teresa Davila no cioè non un cercare di entrare nella interiorità più profonda di se stessi per avere questo contatto questa cogliere la bellezza di questo incontro e questo è un percorso che appunto diciamo la mistica conosce molto bene e che viene giudicata ortodossa o eretica questa questa corrente a seconda se le persone accettano di sottomettersi all'istituzione chiesa oppure a persone che dicono no il rapporto con Dio è superiore all'istituzione questo diciamo perciò in qualche maniera è un gioco di potere quello che si crea l'altro esempio di cui vi voglio parlare è quello di Blandina no di Guglielma Guglielma da Milano anche qui ci troviamo in pieno medioevo Guglielma da Milano era una stiamo a Milano questa donna muore in odore di santità cioè lei nella abbazia di Pietravalle si crea si crea proprio tutto un gruppo di persone fedeli che vanno in processione alla sua tomba dove perché lei viene considerata proprio una di quelle sante vive di quelle sante che in vita hanno manifestato un rigore di vita un'esemplarità di vita che richiama tante persone che in lei vedono appunto un modello da imitare e quindi una santa da venerare cosa succede però dopo che lei è morta che alcuni discepoli pensano elaborano questa dottrina cioè dice ma in qualche maniera questa Guglielma non è morta lei è l'incarnazione dello Spirito Santo e verrà nel mio verrà a fondare una chiesa tutta femminile dove dove ci sarà un papa donna e maifreda che è questa discepolo dice io sono quella che sarò investita di questo ruolo diventerò papessa di questa nuova chiesa allora chiaramente il processo sono stati uccisi loro e anche le osta della povera Guglielma sono state prese e bruciate che cosa rappresenta questa eresia secondo me perché guardate l'eresia per quanto possa sembrare un po' balone esprime un disagio esprime una domanda qual è la domanda che cosa vuol dire vuol dire che in una chiesa maschile gerarchicamente maschile visibilmente maschile di un dio padre che si incarna in un figlio maschio ma le donne sono salvate questa è la domanda ma c'è salvezza per le donne il corpo femminile è salvato o è oggetto e invece è un elemento di disprezzo non è una domanda banale voi sapete che nella teologia Dio non è né maschio né femmina va bene ma noi ne dobbiamo parlare perché usiamo il linguaggio umano e allora dice Sant'Omaso dice quindi dobbiamo usare per analogia dobbiamo usare anche Gesù usa dei termini il pastore non so il re sono delle immagini delle metafore però dice Sant'Omaso dice sì però quando parliamo di Dio è vero che dobbiamo usare delle metafore ma dobbiamo usare però delle metafore che richiamino al sesso eminente qual è il sesso eminente il maschile dobbiamo parlare di Dio in termini maschili perché è un sesso preeminente la donna è un maschio mancato è l'antropologia di Aristotele che Sant'Omaso riprende quindi non possiamo attribuire a Dio il femminile con le sue caratteristiche la sensibilità la dolcezza il pianto la fragilità no invece tutti gli elementi maschili vanno attribuiti per questo noi di Dio parliamo in termini maschili anche oggi nei film sarebbe ridicolo sentire Dio con la voce di donna allora questo significa e poi pensate a tutta la trattatistica che parla negativamente della sessualità dell'erotismo del corpo anche del corpo di donna il decontentus mundi non avete mai sentito parlare di questo testo decontentus mundi il disprezzo del mondo di innocenzo del papa innocenzo che dice il corpo umano che mi sede il corpo femminile l'utero cioè come qualcosa di disgustoso di abominevole cioè c'è tutta una tradizione negativa sul corpo femminile allora ecco la necessità di dire ma anche la donna la donna deve essere salvata anche diciamo e deve essere visibilmente salvata deve essere anche resa visibilmente in una chiesa la chiesa non può essere soltanto gerarchicamente maschile e pensare che il corpo della donna non sia degno di una di una rappresentazione di Dio allora noi abbiamo tutto un filone che poi attraversa il cristianesimo di recupero della bellezza del femminile del recupero cioè di una di un femminile che non può essere visto come elemento di seduzione quindi come elemento negativo ma di una bellezza che india che si può parlare di Dio anche in chiave femminile d'altra parte non solo nell'antico testamento quando si parla di Dio si usano diverse immagini si usa l'immagine del vento del fuoco la ruach lo spirito è femminile in ebraico oppure la sapienza Gesù Dio è come la sapienza questa signora che chiama banchetto cioè lo stesso antico testamento utilizza una varietà di immagini ma lo stesso Gesù quando parla di Dio usa delle immagini che prende dalla vita quotidiana e se vi ricordate le tre parabole della misericordia al capitolo quindicesimo del Vangelo di Luca come dice Dio è come un pastore che cerca la pecora quando si perde la va a cercare e quando la trova fa una grande festa Dio è come una donna che quando si perde una moneta la cerca in casa e quando la trova fa una grande festa Dio è come un padre misericordioso cioè il padre che accoglie il figlio che si perde e questo padre non è un padre paterno ma è un padre misericordioso se voi sapete che la misericordia in ebraico ha la stessa radice di utero è un padre con l'utero Dio nasce dall'utero di Dio padre Gesù nasce dall'utero di Dio padre dice Giovanni ecco allora come si mischiano le immagini il femminile e il maschile dove il femminile non è più visto come negatività e allora c'è tutto un filone mistico che riprende questa bellezza del corpo femminile e della positività del corpo femminile che può essere una strada anche per avvicinarsi a Dio che non può disprezzare e disdegnare l'essere l'essere donna dal momento in cui poi Gesù si è incarnato in un corpo femminile allora ecco che abbiamo le grandi anche proposte di un Gesù con le mammelle di un Gesù che allatta c'è tante trasformazioni attraverso la mistica che è un percorso molto affascinante che io vi consiglio anche così non dico di leggere i testi perché sono anche molto difficili ma la mistica e l'eresia in qualche maniera sono molto strette perché sono dei percorsi di libertà che vengono attraversati proprio perché si vuole superare i limiti dell'istituzione che per quanto fondamentale e necessaria in qualche maniera come dire imprigionano l'esperienza la spiritualità lo stesso Dio e quindi cercano strade di un incontro che sia un incontro liberante e un incontro che sappia valorizzare la propria persona il proprio corpo la propria bellezza che non è più allora nella chiave dell'esteroalità ma è nella chiave di una luce che indica il rapporto d'amore che si è creato ed è un rapporto d'amore che poi viene condiviso con gli altri per cui si cerca si crea un circolo d'amore che è la rappresentazione poi stessa di Dio grazie a tutti